Chiamo i nostri amici docenti, il professor Bennato da Catania, il professor Manzoli da Bologna, il professor Di Tullio da Firenze. Professor Manzoli, l'offerta settimanale. Professor Bennato? Per come sono fatto io diciamo che ci sono fondamentalmente tre pellicole che si impongono alla mia attenzione. Sicuramente esternonotte di Bellocchio perché Bellocchio comunque è sempre riuscito a fare film di analisi della realtà anche con uno sguardo potentemente sociologico ogni volta che ha trattato le sue pellicole. Quindi da questo punto di vista sicuramente esternonotte è la mia scelta principale. Poi American Night. American Night perché io sono sempre affascinato dalle storie diciamo così noir che gravitano intorno al mondo dell'arte. In questo caso tra l'altro la protagonista è la Marilyn Monroe di Andy Warhol che tra l'altro proprio qualche settimana fa è stata abbattuta all'asta come uno dei record di tutti i tempi. e quindi anche c'è questa dimensione che la collega all'attualità che mi rende questo film anche molto interessante e molto affascinante. E poi con chi viaggi perché ho visto il trailer, a parte il fatto che mi piacciono tutti gli attori interpreti con Lillo Petrolo davanti a tutti. Ma c'è questo cambio di narrativa, cambio di narrazione che comincia in maniera quasi con un on the road e poi evolve nel thriller che secondo me me lo rende molto affascinante. Soprattutto perché è sempre bello vedere come degli attori comici o come per esempio c'è anche i rovazzi poi cominciano a scendere in questo maelstrom della cattiveria o comunque del thriller. Professor Manzoli, Professor Bennato e Professor Di Tullio, classifica Professor Manzoli? Professor Bennato? Beh, secondo me la classifica dimostra fondamentalmente che l'unico modo che si ha per portare le persone al cinema è o educarle ad un certo tipo di immaginario come stanno facendo i Marvel che ovviamente ogni volta che esce un loro film riescono sempre a drenare pubblico nel loro sale oppure riuscire fondamentalmente a creare nuovi immaginari o immaginari alternativi. Quindi secondo me questa è la via. Anche a me, anche io sono incuriosito da questi universi alternativi paralleli e perpendicolari del Marvel Cinematic Universe e quindi vedremo dove andranno a finire. Professor Di Tullio.